Musica 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 Nella tua camera ha trovato una rivista di caramelle dentro c'è la sequenza di uomo c'e' un toro, mani note c'è la carta del toro in particolare delle corde l'intera, spezzare ma manca la foto del contatto tra le corde alla mano Musica 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 Leo è questo che siamo grazie a tutti grazie a tutti